E forse cominciare, ecco qua, siamo in diretta, grazie, perfetto, ora siamo in diretta su Facebook, per chi si fosse collegato con noi adesso, un vivo benvenuto da parte del Centro Culturale Protestante Pietro Martire Vermigli di Firenze, è veramente con grande gioia che stiamo per dare inizio a questo evento che ci parla appunto di una ricerca storica importante. Io dirò solo poche parole di così, di benvenuto e di generale introduzione, ma vorrei veramente lasciare posto invece alle persone che gentilmente hanno voluto avere la generosità di essere con noi questo pomeriggio. Allora, prima di tutto appunto ho il piacere di accogliere nella stanza, diciamo così, nello spazio virtuale del Centro Culturale Protestante di Firenze, Luisa Simonutti, che è una ricercatrice di grande fama, devo dire, che ci ha regalato degli studi fondamentali sui temi della tolleranza, sull'occhio in generale, diciamo su tutto quanto è il clima intellettuale, il clima filosofico, il clima anche politico di quel momento tanto importante che è l'Europa fra 6 e 700. In particolare appunto molto attenta a cogliere proprio, come dire, il momento di passaggio fra 600 e poi quello che diventerà, diciamo, l'illuminismo pieno. Ugualmente felice sono in questo caso di ospitare con noi il professor Lothar Vogel, che non solo è docente di storia del cristianesimo presso la facoltà teologica valdese di Roma. Lothar, ho definito bene la tua cattedra o forse ero imprecisa? Soprattutto abbiamo anche molto piacere di ospitarlo con noi perché credo abbastanza recentemente ha preso su di sé la responsabilità di essere anche il decano della facoltà di teologia e credo che tutti e tutte coloro che amano appunto la scienza lieta, anche la teologia come Karl Barth la definiva, siamo molto grati per aver voluto prendere sulle sue spalle questa responsabilità. Last but not least abbiamo con noi anche l'autrice di questo libro, la professoressa Lucia Felici, che appunto oltre ad avere, come dire, promosso studi importantissimi, ho condotto le stesse studi importantissimi sulla riforma, fra i quali un libro che sta veramente facendo, come si suol dire, facendo bibliografia sulla riforma nell'Europa del Cinquecento, anche lei ha voluto, come dire, esprimere la sua generosità nel servire come vicepresidente anche del centro culturale protestante Pietro Martire Vermigli. Questo è il nostro primo incontro dopo una lunga pausa estiva, un po' più tardi del previsto, ma per ragioni di programmazione veramente non potremmo trovare maniera migliore di iniziare che non con questo bellissimo test. Sicuramente, ecco, come dire, vorrei semplicemente rubarvi qualche minuto per dire come una persona la cui ignoranza nelle materie storiche è vasta e ben radicata, come la sottoscritta, diciamo, come una persona appunto molto esterna alla disciplina storica maneggia, prende in mano, usa questo testo. Perché appunto questo testo ci parla di una figura, Erasmo, come voi sapete, come è stato definito anche da uno dei più bei libri che su di lui sono stati scritti, Erasmo della cristianità, perché prima di tutto è vero che Erasmo è un patrimonio comune della cristianità, della cristianità tutta, ma soprattutto, come voi sapete, Erasmo incarna proprio, come dire, l'idea al tipo dell'intellettuale europeo. È interessante anche il fatto che ci sia qualche cosa ancora di nuovo da dire su Erasmo e questa sicuramente è la prima cosa che io vorrei sottolineare del valore di questo libro, perché appunto Erasmo è una di quelle figure che sono così universalmente note, ma anche così universalmente amate, da far sì, insomma, da pensare che sostanzialmente su Erasmo forse c'è da celebrare, ma non tanto più da investigare. Invece questo libro ci porta in un aspetto poco noto della vita di Erasmo, ovvero sia la fondazione, almeno poco noto per gli ignoranti come me, probabilmente per gli storici e le storiche si studia al primo anno di università, però appunto per una persona esterna alla disciplina come me, è stato molto interessante sapere di questa fondazione di Erasmo, cioè è stato molto bello vedere e sapere come un intellettuale come Erasmo pensa al proprio futuro e appunto pensa al proprio futuro con una fondazione che appunto vuole continuare, come dire, i temi che hanno caratterizzato il lavoro di Erasmo, quindi appunto tolleranza, spirito critico. Comunque sul lavoro specificamente della fondazione di Erasmo ci parleranno appunto il professor Voghe, la professoressa Simonutti, la stessa autrice. Io adesso invece vorrei, come dire, prendere spunto da una riga che ho visto nell'introduzione che mi ha fatto molto pensare, perché appunto nell'introduzione Lucia Felici scrive che appunto la fondazione di Erasmo si trova a continuare questo lavoro e soprattutto si trova a continuare uno stile di lavoro che era stato proprio di Erasmo, ovvero sia uno stile di lavoro che tende sostanzialmente a superare le barriere. E questo accade in un momento, scrive Felici, nel quale invece si assiste a una generale tendenza verso la confessionalizzazione, la nazionalizzazione. E questo mi ha fatto molto pensare, perché da un certo punto di vista sicuramente il Cinquecento poi diventerà il secolo della nascita dei grandi stati moderni, quindi sicuramente diventerà il secolo della nazionalizzazione. E per un lungo tempo, io penso appunto, molti dei paradigmi dominanti, se vogliamo anche della teoria politica, hanno identificato nazionalizzazione e modernità. Invece adesso, come voi sapete, noi ci troviamo a vivere in un periodo nel quale, come dire, nazionalizzazione e modernità non si trovano più ad essere così, come posso dire, immediatamente identificati. Anzi, in un certo senso sono, come dire, separati di fatto, perché noi adesso viviamo in un mondo nel quale, come dire, i confini nazionali hanno sempre meno senso e questo noi lo impariamo, come dire, in una maniera molto ruvida, in una maniera molto brutale, lo impariamo perché c'è il cambiamento climatico, lo impariamo perché c'è il Covid, lo impariamo perché ci sono le grandi crisi finanziarie. Abbiamo fra le mani anche uno strumento per cercare di, se non altro, attutire i contraccolpi di questi processi che noi chiamiamo globalizzazione e questo progetto è l'Europa. Come tutti sanno, il programma di scambio degli studenti dell'Unione Europea si chiama proprio Erasmus, in memoria di Erasmo, per una ragione. Sicuramente, ecco, direi che in questo momento, in questo momento è un segno, voglio dire, di speranza, iniziare anche l'attività di un centro culturale come il nostro, parlando di una figura come Erasmo, perché come voi sapete in questo momento l'Unione Europea non gode, certo, di buona salute. Anzi, siamo probabilmente in uno dei momenti più bassi del processo di integrazione europea, dove invece appunto di abbattere frontiere si sta cercando nuovamente di alzare muri e dove, come dire, sembra che il maggiore consenso che spesso ci sia sia sul limitare il processo di integrazione sovranazionale. Per questo appunto io credo che per un centro culturale come il nostro sia invece una cosa significativa iniziare la nostra attività parlando proprio su un libro che ci racconta che cosa questo grande intellettuale Erasmo, quest'uomo soprattutto di pace, abbia inteso fare quando appunto ha legato le sue ricchezze a questo progetto di una fondazione, ci sembra che in questo momento il sogno, il progetto di Erasmo sia sicuramente il nostro, ci sia sicuramente più vicino che mai. L'altra parola ovviamente che era molto importante nella introduzione è confessionalizzazione. È interessante anche vedere che, come dire, più o meno per caso, onestamente non l'abbiamo fatto apposta, però, come dire, il destino ha voluto di parlare di questo libro di Erasmo pochi giorni prima che si festeggiasse l'anniversario della riforma. Ora, come voi sapete, Erasmo e Lutero non è che proprio giocassero a briscola insieme, ecco, se a qualche sport si dedicavano, io direi, professor Vogel, mi collega lei se sbaglio, fossero piuttosto sport, diciamo, come si dice ora, di contatto, eh? Quindi questo sicuramente. Però, d'altro canto, questo, come dire, visto alla distanza, che cosa ci dice? Ci dice, secondo me, sostanzialmente due cose, che comunque sia, gli avversari di Erasmo e gli avversari di Lutero ne hanno sempre sottolineato i punti di avvicinamento. E come voi sapete, molto spesso i nostri avversari ci dicono delle cose interessanti su noi stessi. Per cui, come dire, alle volte nello sguardo degli avversari noi invece possiamo cogliere una realtà importante, ovvero sia che nonostante certa storiografia che trovo vada molto di moda, diciamo, piuttosto volgarizzazione storiografica che va molto di moda in Italia, tende a presentarci un Lutero medievale, come posso dire, ferrigno, invece sicuramente per quanto procelloso, per quanto polemico, però lo scambio con Erasmo, anche se sicuramente duro, appassionato e poi soprattutto concentrato sul nucleo teologico che resta in ogni caso diverso, però ci fa vedere un altro lato importantissimo di Lutero, ovvero sia il Lutero comunque sia figlio del Cinquecento, figlio comunque di un momento di umanesimo che in ogni caso era riuscito, come dire, anche a entrare nelle pareti delle facoltà di teologia e quindi il fatto che in un certo senso appunto Lutero ed Erasmo si siano dedicati a questo sport di contatto per tanti anni, io credo ci restituisca anche un altro aspetto della figura di Lutero che spesso in Italia si tende a mettere in sottordine che è appunto quello invece del Lutero che è pienamente in grado di appunto di incrociare le spade, almeno virtualmente, appunto con il maggiore rappresentante della cultura umanistica del suo tempo. Se l'Europa non sta molto bene in questo momento direi che probabilmente forse non so anche quanto stia bene il movimento epumenico, perché per quanto è vero che dal punto di vista che sicuramente da parte del pontefice romano ci siano state aperture importantissime, dobbiamo però ricordare che questo è un momento nel quale, come dire, tutte le denominazioni, diciamo così storiche, non si trovano a vivere di grande buona salute e mentre invece sembra che si stia assistendo piuttosto a un momento di grande forza di, come dire, confessioni che hanno un approccio al cristianesimo a pronta prese, che molto spesso non condividono appunto lo spirito erasmiano che è non solo di tolleranza, ma vorrei sottolinearlo, anche lo spirito di indagine critica, appunto Erasmo che è profondamente cristiano, che però comunque ritiene che il lavoro di interpretazione, che il lavoro ermeneutico sia in un certo senso un dovere anche della testimonianza cristiana. E questa mi sembra sicuramente un'altra grande lezione che noi possiamo prendere appunto dalle ultime volontà di questo grande della storia europea, di cui oggi invece ci parleranno i nostri esperti e le nostre esperte che sono qui oggi con noi. Allora, io se ricordo bene il nostro ordine, adesso tocca a me il grande piacere di dare invece la parola al professor Vogel, prego, e vi chiederei di stare nei 15 minuti. Passati i 15 minuti comincio a farvi delle gran brutte facce. Ok, bene, bene. Grazie molte, cara Deborah Spini, grazie molte per l'invito a questa presentazione. Devo dire che questo è un libro che attrae immediatamente, questa è la prima cosa che voglio dire, attrae principalmente per due motivi. Per il titolo Senza Frontiere, che è appunto un titolo come Deborah Spini già ha accennato, un titolo che un po' ci fa sognare, oppure ci crea quasi una nostalgia in questo periodo in cui ci troviamo. Dunque pensare a un mondo in cui diciamo non si ricominci a costruire muri ci fa bene. Cioè proprio ieri il presidente del consiglio di quel paese tedesco in cui io ho le mie radici, il signor Kretschmer ha detto sarà necessario costruire muri. E quindi proprio in un giorno così fa bene leggere questo titolo. Seconda osservazione è un libro appunto che porta novità, porta una ricerca che veramente apre su una dimensione di Erasmo di cui al massimo si conosceva il nome, si conosceva il fatto, ma senza avere un'idea approfondita di questo fenomeno. Dunque è appunto una ricerca di grande originalità e di grande rilevanza e poi anche una che dà spunti per pensieri odierni. Su questo tornerò. Dunque è un libro che secondo me diciamo può essere solo raccomandato per la lettura e poi per una lettura che è proprio un piacere per questi motivi. Leggendo mi sono detto in fondo ci sono tanti Erasmo, tanti Erasmo che a volte ci si chiede ma questa è stata una sola persona. Voglio elencare alcuni. Anzitutto pensiamo all'Erasmo umanista, qualunque cosa sia e significhi questo termine, cioè l'umanista di per sé perfino, cioè chi forse non è stato d'accordo con Erasmo non poteva essere un umanista, dicevano alcuni. C'è questa strana discussione sull'umanesimo di Dutero di uno che utilizzava tutti gli strumenti umanistici ma pure poi era in disaccordo con Erasmo. Dunque questa è la prima immagine, forse quella più immediata, l'umanista anche cosmopolita, uno che si dedica a valori universali e tutto questo in uno spirito rinascimentale. Ma poi ci sono altri Erasmo. Ad esempio io da teologo protestante vedo l'Erasmo cattolico che nel suo testo, nel suo confronto con Lutero sulla libertà dell'arbitrio umano, trasporta a volte una teologia estremamente convenzionale. Cioè si esprime meglio degli scolastici, è chiaro, Gabriele Dill è meno divertente di Erasmo da leggere. Ma in fondo se poi cerco di ricondurre queste argomentazioni al sodo, a volte incontro anche un pensatore in qualche modo forse convenzionale. Cioè c'è un Erasmo conservatore che a volte si riscontra, proprio quando si tratta delle precise idee teologiche, più precisamente soteriologiche. Se pensiamo all'etica, se pensiamo al tema del battesimo anche, troviamo anche un teologo Erasmo abbastanza originale. Ma proprio quando parla ad esempio della giustificazione, questo tema caro alla teologia protestante, cioè non è così originale quello che pensa, a volte è quasi un po' vecchio stile. Un terzo Erasmo è l'Erasmo della riforma italiana oppure della riforma in Italia. Come volete dire, io su questo adesso non voglio prendere posizione, credo che entrambe le diciture abbiano un loro senso. Dunque, quell'Erasmo che gira in Italia e a volte girano poi sotto questo nome, come i testi di Lutero e di altri riformatori, perché stampati così. Dunque, un Erasmo protestante quasi. Questo è un altro immaginario che possiamo incontrare. A livello più economico c'è l'Erasmo intellettuale freelance, come forse oggi direte qualcuno. Cioè, l'uomo che fa la sua carriera scrivendo, pubblicando, però l'uomo estremamente attento anche alle ripercussioni economiche delle sue attività in vita. Poi prevede nel suo testamento che quando è morto questi 5.000 fiorini, che erano una massa di soldi in quel tempo, potessero essere utilizzate per altri. Ma non è casuale che lo faccia per un progetto post-mortem, perché in vita, diciamo, ai soldi ha prestato comunque una forte attenzione e doveva farlo, perché diversamente da Lutero o diversamente anche da un qualche Benedettino, più o meno vicino alla riforma, doveva vedere come campare. Cioè, non era così interno a un sistema da potersi fidare di questo. Dunque, abbiamo questa pluralità di idee che cosa potesse essere Erasmo, e appunto questo nostro libro aggiunge un tassello molto molto importante, da un lato per la volontà testamentaria espressa da questo personaggio, e dall'altro lato anche per la storia degli effetti, si posso dire così, di questo testamento da lui lasciato, che poi si traduce nelle attività di quella fondazione gestita nella prima generazione da Bonifacio Ammerbach, e poi dal figlio e poi passa. Dunque, una storia degli effetti molto reale. E tutto questo adesso avviene in un periodo, c'è quel periodo preso sotto esame nel libro, passa appunto dal 1536 fino agli anni 80 del 500, almeno il baricentro è lì, e in una fase in cui si impone in Europa quel processo che noi chiamiamo confessionalizzazione, cioè in cui le società, le politiche, eccetera, si orientano secondo determinati paradigmi confessionali. E questa confessionalizzazione ha anche avuto fortissime ripercussioni sulla nostra memoria di quello che è accaduto nella prima metà del 500, perché sono un po' i nostri occhiali con cui guardare anche questo periodo precedente. E questo è ciò che ci fa a volte problemi. Prendiamo per l'Italia uno come Juan de Valdés, cioè siamo quasi automaticamente tentati dalla questione ma quello adesso era evangelico o cattolico? E questa è una domanda che si spiega non per le condizioni di vita di Juan de Valdés, morto nel 1541, ma per le categorie che si sono imposte soltanto nei decenni successivi. e naturalmente anche noi corriamo esattamente questo rischio per Erasmo. Cioè, adesso era protestante o cattolico? Come se, in qualche modo, come se dipendesse da questo la salvezza della sua anima, lo dico scherzando, no? Quindi, e vediamo che la figura di Erasmo e anche le attività di questa fondazione in un certo senso si sottraggono da queste polarizzazioni. E così, diciamo, è un bel paradigma per la lentezza e la gradualità di questo processo, esattamente così come è stato dimostrato negli ultimi vent'anni dalla ricerca sulla confezionalizzazione. Cioè, questo non è un processo unilaterale, chiaro, lineare, ma un processo abbastanza complicato, complesso, con avanti e indietro, ancora negli anni 70, nella Renania, ci sono i personaggi che in un paese fanno il pastore protestante e nel paese accanto il prete cattolico, la stessa persona. Cioè, questo va avanti per decenni, no? Cioè, sempre in più ci rendiamo conto, dunque, che questa confezionalizzazione stabilisce criteri che non sempre ci aiutano a comprendere questa fase di cui parliamo qui e in cui è anche attiva questa fondazione. A questo si associa soltanto un'osservazione. Appunto, c'erano teologi cattolici, penso alla scuola di Lovagno, cioè questa gente, Giovanni Latomo, Iandriedo, eccetera, che dicevano che Erasmo è peggiore di Lutero, proprio per la libertà dell'arbitrio da lui insegnata. Cioè, insegnato, proprio per questo. Dunque, anche questo, dunque, è tutto abbastanza complesso. E questo è dunque un bellissimo paradigma per come evolve il XVI secolo, un bellissimo paradigma che viene offerto da questa ricerca. Mi permetto di aggiungere qui una piccolissima osservazione sulla Wittenberg del tempo, perché perfino a Wittenberg, appunto, va bene, dopo la guerra smalcaldica, lì era predominante Filippo Melantone, non Mattia Flaccio Illirico, eccetera, o altra gente, forse è questo un fattore, ma ancora negli anni 50 Melantone ha scritto lettere di raccomandazione per studenti di diritto, naturalmente non più di teologia, ma per studenti di diritto che volevano andare a Bologna, ad esempio. Lì, naturalmente, c'erano anche degli amici in giro, ma dunque questo mondo a metà XVI secolo mostra ancora delle aperture che quasi, diciamo, dopo sono state un po' rimosse. E questo vale perfino, appunto, per un luogo come Wittenberg. Un altro elemento che ho trovato molto affascinante di questa ricerca è che mostra l'efficacia di quello che oggi amiamo chiamare un intervento sociale. Cioè, aiuto per persone indigenti, aiuto per persone in migrazione, perché la riforma causa effetti migratori abbastanza consistenti, non soltanto di protestanti, anche di cattolici, perché tanti monaci o frati cattolici che sono stati buttati fuori dalle loro abitazioni, dai loro conventi, laddove si imponeva il protestantesimo, ad esempio, e naturalmente tanti migranti protestanti che non accettavano la cattolicità romana del territorio. Dunque, un forte impatto migratorio di tutto questo processo che ha, allora come oggi, creato delle esigenze, delle indigenze e delle situazioni di emergenza, su cui, anche su questo, appunto, questa fondazione è intervenuta da un lato nei confronti dell'elite e dall'altro lato però anche nei confronti di gente di più, come dire, tra le virgolette bassa estrazione. Lo trovo molto interessante perché ci siamo anche abituati a una certa vulgata, almeno nella storiografia protestante, secondo cui il tentativo di riorganizzare l'intervento sociale legato, questo tentativo legato alla riforma, fosse stato spesso poco efficace. Cioè, tutta la storia della casa comune in cui dovevano confluire le vecchie entrate per le chiese, eccetera, e che tutto questo fosse andato relativamente male. Qui, invece, in un ambito confessionalmente non così definito, questa ricerca con le tante biografie singole che vengono descritte, e questo è anche un elemento molto affascinante del libro, le tante biografie singole, si vede l'efficacia di questo intervento. Cioè, queste cose hanno concretamente aiutato le persone ad andare avanti, a proseguire una carriera accademica, questo è per il versante accademico della fondazione, oppure semplicemente di campare. C'erano entrambe le cose. Tutto questo, tutta questa cosa ci fa vedere una rete di relazioni molto, molto ampia, proprio di estensione europea, per questo, diciamo, molto erasmiana in questo senso. A volte, naturalmente, l'assegnazione della borsa dipendeva anche dall'appartenenza a una certa rete. Dunque, questo aveva due lati. La fondazione creava reti, ma dall'altro lato la rete condizionava anche gli interventi. Cioè, sinceramente, ce lo dobbiamo dire. Ma comunque, questa rete aveva una considerevole efficacia e riguardava molte persone che solitamente ricordiamo come riformatori italiani. anche questa naturalmente è una cifra su cui sarebbe necessario riflettere molto, ma comunque tra le persone che usufruivano di questi fondi figurano persone come Celio II Curione con la sua famigerata grande famiglia. C'è una situazione molto difficile, Castellione, Pietro Martire Vermigli, il Sardo, Giovanni Archer e molti altri. Cioè, persone chiave della riforma italiana oppure riforma in Italia hanno abbastanza direttamente usufruito di questa possibilità. E dunque, vi fu un'Europa di Erasmo? Questa è la domanda posta sulla penultima pagina del libro. Si può assolutamente rispondere di sì questa Europa di Erasmo esisteva e si realizzava anche appunto con interventi concreti di aiuto, di indirizzo, di sostegno e di avvio a delle biografie intellettuali molto rilevanti. Dunque, tutto questo viene mostrato nel libro è un diciamo un valore di novità di questa ricerca molto molto importante. Io sono molto grato di questa pubblicazione. E noi siamo grati al professor Vogel per questo bellissimo intervento pieno di temi importanti e anche veramente ammirevole per quanto riguarda la disciplina nei tempi. Prima di passare la parola a Luisa Simonutti vorrei però portare i saluti della libreria Claudiana che appunto ci saluta tutti e tutte potete leggere il saluto nella chat e già che stiamo parlando di libreria Claudiana che come sempre salutiamo e ringraziamo vorrei anche ricordarvi che appunto la libreria Claudiana di Firenze per chi è diciamo sulle rive dell'Arno è disponibile il libro che cosa che comunque non guasta bene. Grazie infinite Luther adesso mi rivolgerai verso Luisa Simonutti che credo ci parlerà anche di diciamo un po' del come dire del proseguo intellettuale di questa fondazione di Erasmo perché se non sbaglio tu ci porterai Luisa anche a parlare di Republique dell'Elect giusto? Giustissimo Deborah ti ringrazio e ti ringrazio per la troppo generosa presentazione e ringrazio tutti veramente per essere qui a questo appassionante diciamo a questa appassionante scoperta di questo appassionante libro ringrazio naturalmente Lucia e poi appunto abbiamo modo di anche discutere insieme sì devo dire diciamo indegnamente insomma ho qualche familiarità con 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 Erasmo ce l'ho mai stato veramente una scoperta leggere questo libro devo dire che va se posso dire come consiglio di lettura va letto un pezzetto alla volta un capitolo alla volta poche pagine alla volta perché ogni pagina apre una porta su una vita di una persona di uno studioso di un di un viaggiatore di un ecclesiastico eccetera e quindi ma ne parliamo ecco devo proseguo anch'io un po' ringrazio il professor Fogel perché e anche l'introduzione di Deborah perché in effetti ci ha messo ci ha messo subito presente questo fatto che noi ci immaginiamo di solito questi studiosi uno poi diciamo dell'importanza di Erasmo che sta nella sua cameretta nella sua stanza nel suo studiolo circondato di libri eccetera e ci sembra e ce lo immaginiamo almeno io erroneamente mi immaginerei un po' slegato dal mondo invece non era così erano personalità personaggi che diciamo vivevano pienamente la propria realtà lui tra l'altro era un viaggiatore per passione per dovere per necessità straordinario ha girato tutta l'Europa in lungo in largo per davvero e qui subito una domanda per Lucia insomma riguarda questi a questi viaggi ma poi appunto magari te la formulerò un po' meglio e quindi ecco è un personaggio che vive il suo presente e capisce profondamente alcune cose secondo me appunto uno dei temi fondamentali è quello dell'educazione però ecco è vero hai ragione Deborah vorrei partire diciamo fare questo viaggio ideale dalla Repubblica Cristiana alla Republique dell'Etre ma così per estremi cenni ecco e suggestioni perché devo dire mi sono veramente appassionata ecco ha presente questo tema dell'educazione anzi Lucia devi mandare questo libro ai nostri diciamo ministri e diciamo politici perché devono capire quanto è importante e Erasmo ce lo dice oggi parlare di questo d'averci portato questo questo racconto perché di queste vite che crescono si arricchiscono possono fare un mestiere possono fare una carriera ecclesiastica di segretario di grandi diciamo casate grazie all'educazione ma soprattutto qual era il disegno della Repubblica Cristiana di Erasmo era quello di fondare questo nuovo nuovo uomo questa nuova umanità questo anche questa nuova società cristiana sulla formazione sull'educazione sulla lettura critica dei testi diciamo così storico storici letterari eccetera e di quelli anche biblici quindi diciamo è questo secondo me diciamo uno dei maggiori una delle maggiori insegnamenti per oggi perché io lo sento veramente un manuale di diciamo di riformazione di riforma della società presente questo questo volume e l'impegno che ha avuto Erasmo quindi è veramente importantissimo averlo sul tavolo e ogni tanto andare a leggere un po' di queste storie di vite che ci sono dentro e infatti attraverso la fondazione questo l'ha già detto benissimo il professor Vogel ha fornito questo strumento ha pensato che non bastava la sua vita i suoi libri il suo insegnamento ma doveva esserci qualcosa di più un'istituzione e questo è estremamente importante perché anche se altri pensatori avevano avuto questa idea dell'educazione così per della della persona eccetera bisogna arrivare al settecento ai filosofi per una battaglia vera nelle istituzioni per garantire l'educazione alle persone e poi insomma giustamente Lucia dedica un capitoletto alle donne all'attenzione che Erasmo ha avuto all'educazione alle donne e anche alle donne povere quindi questo è un aspetto veramente significativo perché è vero che diciamo nel quadro storico è chiaro che l'educazione delle donne non era per avere dei luoghi o dei posti diciamo dirigenziali nella struttura sociale ma era per l'educazione familiare per la cura della famiglia ma era importantissima perché la cura della famiglia è la cura dei figli e quindi attraverso questo diciamo avere delle delle madri che hanno una buona educazione è un altro modo per costruire l'uomo e la donna e la società cristiana futura quindi diciamo e per costruire la tolleranza perché diciamo dove quali sono alcune insomma sono tante le radici dell'intolleranza è l'ignoranza il non conoscere l'altro è rifiutare la conoscenza è avere pregiudizi è avere un atteggiamento appunto di non di non conoscenza dell'altro e quindi l'educazione è ancora oggi sottolineo tre volte è fondamentale l'apertura intellettuale attraverso la formazione diciamo dell'educazione a tutti i livelli appunto e le reti che avete già detto sono effettivamente molto molto importanti ed emergono dal dal volume anche ho apprezzato molto per esempio il le appendici lo statuto gli statuti e anche le regole dei borsisti con un po' di poca familiarità col tedesco ma insomma ci tornerò sopra ecco e poi non posso negare diciamo che anch'io sono stata colpita da questa attività filantropica appunto parlando di visione di aperta una cristianità larga a una via aperta a un cielo una via verso il cielo aperta a tutti i credenti come era appunto l'idea di Curione questa filantropia verso questo mondo radicale il professor Fogel ha giustamente ricordato alcuni Basler Kreis Kreis che era uno diciamo piuttosto radicale contro l'autoritarismo religioso ma naturalmente Castellione anche lui ha avuto un certo aiuto economico anche rilevante aveva promesso no se non sbaglio di ridare indietro un po' dei finanziamenti che aveva del supporto economico insomma che aveva avuto ma naturalmente questo è avvenuto solo in piccolissima parte vero Lucia naturalmente la vita di Castellione non era stata facile prima ancora peggio difficile più difficile era diventata dopo con la sua difesa della tolleranza religiosa e delle idee di serveto quindi naturalmente Bonifacio Hammerbach è stato dalla sua parte l'ha aiutato ma affermazioni bellissime come uccidere un uomo non è difendere una dottrina ma è uccidere un uomo ecco naturalmente ci segnano nella storia successiva curione l'avete già ricordato anche lui un autore letto poi durante tutti e due letti durante tutto il seicento questi autori che insomma hanno segnato hanno portato nella lunga diciamo tradizione erasmiana le idee di Erasmo è davvero sottolino questa volontà di apertura a tutti i cristiani ma non solo ecco quindi nella convinzione che l'eretico è l'eretico per l'altro cioè l'idea di eretico è semplicemente in contrapposizione a qualche altro punto di vista cioè io non sono una tifosa però se fosse tifosa di una società calcistica qualcun altro di un'altra tifoseria mi troverebbe assolutamente totalmente eretica ecco per dire quindi è una reciprocità escludente prima di tutto va bene ma dicevo prima questa fondazione ha aiutato scrivani e maestri di scuola anche questo è bellissimo perché all'epoca erano anche poveri itineranti un po' ciechi accecati no dallo studio con le candele eccetera un po' vecchi malmessi questi questi maestri e la fondazione li aiutava giovani più diciamo in forze come Geremia Fer che ebbe invece un'importante carriera appunto di segretario di grandi casate ecclesiasti anche lì pastori indigenti venivano aiutati ma anche eruditi medici musicisti stampatori che nell'Europa del Cinquecento poterono godere dell'aiuto di della fondazione dell'Erashmus e anche l'orientalismo cito solo qualche esempio Bartolomeo Gregorievich la mia pronuncia è un po' così ma insomma un lessicografo croato che naturalmente studiava orientalista studiava il gran turco no i turchi quindi questa tradizione che stava arrivando in Europa ecco e naturalmente era mal visto perché dicevano ma questo qui lui vive da cristiano muore da cattolico ma diciamo naturalmente la vita ce l'aveva difficile e la fondazione lo aiuta ecco in questi percorsi di vite e anche ebrei che lavorano sul Talmud anche nobili che fanno un gran tour insomma offrono dei prestiti insomma degli aiuti economici alle povere persone questo è veramente straordinario ma appunto la Lucia dice ma fu un'idealità o una realtà? fu una grande idealità ebbe una grandissima visione Erasmo e fu una realtà perché continuò e ora gli ultimi due tre minuti vorrei dedicarle a questo e continuò anche dopo l'esaurimento diciamo della lo spegnersi effettivo istituzionale insomma dell'Erasmo Stiftum perché nell'Europa tardo cinquecentesca seicentesca nel pieno seicento primo settecento continuano a circolare le opere di Erasmo io cito solo va bene la pubblicazione in dieci volumi nel 1703 dell'opera omnia di Erasmo fatta da Jean Leclerc che è il testo di riferimento fino all'edizione moderna e contemporanea quindi una storia grandissima che Leclerc questo ugo noto un po' calvinista un po' riformato insomma comunque un uomo pienamente della Repubblic dell'Etre nell'Olanda e in giro per l'Europa nella seconda metà del seicento ripropone ma Erasmo era già ritornato in Olanda ancora prima grazie alle traduzioni in olandese di Glassmaker Glassmaker grandissimo traduttore che traduce Montaigne Spinoza Descartes traduce anche Erasmo in un contesto chiaro di riproposizione e quindi cosa traduce le annotazioni al Nuovo Testamento l'educazione cristiana contro Mondanus naturalmente riproponendo San Paolo ecco ma questo sono solo degli esempi continuano tutto il secolo ma fin da subito già nel Cinquecento le traduzioni di dialoghi parziali in inglese questo è una cosa importante perché diciamo arrivano in Inghilterra fortemente e poi per tutto il Seicento moltissime e poi le ristampe delle opere intere parziali settori per tutto il Tardo Cinquecento e tutto il Seicento è eccezionale cioè basta scorrere i titoli di una qualche biblioteca importante e uno ne resta veramente ne resta veramente colpito dunque veramente devo dire che il lavoro di Lucia ci ha aperto la possibilità di toccare con mano le vite di queste persone vite tutte appassionanti anche quella e qui cito altri lavori di Lucia che io amo molto e sono i suoi lavori su Bibliander anche Bibliander non è stato un vero e proprio allievo diciamo o comunque non ha usufruito se non sbaglio dell'Erasmus Stiftung supporto ma porta le idee erasmiane il suo universalismo lo diciamo ha un'impronta fortemente erasmiana e chi è Bibliander quello che traduce certo per confutarlo certo le moltissimi importantissimi testi il Corano e altri testi connessi che avevano circolato in manoscritto e che lui pubblica e sarà per duecento anni non lo so di più i volumi di riferimento per quanto riguarda il mondo quell'altro quello turco quello islamico l'alterità ma un lavoro importantissimo e quindi è anche di questo di questo tipo di aperture appunto di cui noi abbiamo ancora bisogno per conoscere per capire per per capire uno solo l'altro e come di nuovo con il messaggio diciamo fondamentale secondo me ecco in questo momento che io sento veramente fondamentale oltre a quello irenistico indubbiamente oltre a quello dell'eredità ermeneutica storico-critica è assolutamente vero quello ha attraversato la storia arrivato a Spinoza arrivato arrivato diciamo ha aiutato gli eretici più eretici come dice Canfora chi sono i i filologi ha messo nelle mani Erasmo dei filologi alcune chiavi e poi i filologi hanno proseguito la storia comunque tutti questi vari rami in cui diciamo si è concretizzata perché così fu l'insegnamento l'esperienza l'idealità di Erasmo sicuramente quello educativo mi sembra veramente il messaggio necessario per oggi e su questo veramente ringrazio ringrazio Lucia teniamo accanto al nostro tavolino questo bellissimo libro e leggiamo alcune di queste storie perché ci insegnano nella concretezza quanto importante fosse questa enorme idealità questa enorme visione europea senza barriere senza muri di Erasmo e veramente vi ringrazio grazie grazie mille a Luisa Simonotti per questo bellissimo e ricco intervento che ha saputo come dire attraversare storie attualità e spero che molti di questi temi vengano anche ripresi dalla discussione adesso io penso che forse potrebbe essere una buona cosa magari forse dare brevemente la parola all'autrice Lucia Felici per una prima reazione alle sollecitazioni ricevute e poi dopo però appunto anche in questo caso chiederei anche a Lucia Felici come già gli altri due lo stesso esercizio di autodisciplina perché vorrei lasciare un poco di tempo magari anche per qualche domanda dal pubblico grazie Lucia Felici a te ringrazio moltissimo innanzitutto l'autor Foghe Luisa Simonotti di questa splendida presentazione e naturalmente Deborah che riesce sempre a organizzare e a rendere vivo diciamo gli argomenti che noi discutiamo e ringrazio naturalmente le persone che sono qui insieme a me e che mi danno che mi danno gioia perché questo libro è nato in un momento in cui io vedevo nero sinceramente era un momento della nostra storia in cui sembrava appunto che le divisioni i muri fossero quelli fossero il fine dei governi stessi e quindi malgrado la difficoltà che non nego di leggere questa difficilissima documentazione in alemanno antico manoscritto perché veramente scrivevano gli Averbach in maniera difficilissima e questa mole enorme di beneficiati appunto mi sono messa all'opera per dare un segnale ecco l'importante che è che giustamente è stato appunto sottolineato e da il professor Fogale e dalla professoressa Simonutti è quello segnale della possibilità che che un mondo diverso fosse possibile dare fondamento all'idea di un'Europa unita un fondamento storico perché la storia è necessaria per appunto comprendere la nostra vita e per pensare anche al futuro come diceva Mark Bloch ma è appunto questo fondamento che fosse una unità che superava le barriere confessionali e che si basasse sui valori di humanitas l'umanità la pietas la fratellanza l'amore verso il prossimo e quindi non un atteggiamento di rifiuto di ripulsa verso l'altro perché è diverso da noi giustamente rammentava Luisa Simonutti la bellissima e bellissima opera di Sebastiano Castellione in cui dice che diceva appunto la moneta aurea è l'unica valevole perché può essere spesa in ogni luogo laddove ci sono diverse che creano appunto linguaggi fedi diversi e spesso in armi l'altro l'altro elemento che ringrazio Luisa di avere sottolineato con questa forza è l'educazione i miei studenti lo sanno io sono dedita veramente all'insegnamento perché penso che sia un valore essenziale per migliorare la società per migliorare noi stessi come individui per migliorare noi stessi come esseri sociali e quindi investire nell'educazione nella ricerca nella formazione per me è essenziale e vuole essere anche il mio lamento di dolore per quanto invece non viene seguito questo messaggio almeno nella misura in cui sarebbe necessario invece farlo perché mediante l'educazione che si combatte la malavita che si combattono le differenze che si combattono che si dà la possibilità sia un orizzonte di speranza ai giovani e non soltanto ai giovani anche agli umili diciamo tutti quelli che Erasmo che la fondazione di Erasmo ha appunto sostenuto in una vita distenti perché anche a loro era riconosciuta una dignità questo è molto importante a mio avviso che la fondazione riconoscesse dignità a ogni essere umano e intendo ogni donna e ogni uomo che aveva difficoltà mi è stato domandato il modo in cui venivano appunto concessi questi sussidi bastava bussare alla porta degli Hammerbach e domandare e gli venivano dati venivano come ha detto giustamente il professor Fogel dati soprattutto a persone che avevano una diciamo comunanza di ideali ma non soltanto quindi proprio questa apertura a chi ha bisogno e chi domanda di migliorare la sua situazione personale e senza alcuna senza veramente alcuna divisione confessionale divisione geografica in quel momento l'Europa si stava riorganizzando e da un punto di vista religioso e da un punto di vista statuale invece questa fondazione dice vuole affermare un messaggio di unità di andare oltre diciamo quelle che sono le barriere confessionali statuali per far sì che migliori l'intera società il volevo appunto l'ultimo elemento che volevo appunto sottolineare è che io ho voluto fare molte storie volevo raccontare molte storie l'atteggiamento di chi studia storia naturalmente quello di sottrare all'oblio vicende umane ebbene io non riuscivo a smettere di sottrare a questo oblio perché ogni vicenda mi sembrava se no che fosse cancellata dalla storia stessa e queste vicende alcune importantissime come di figure fondamentali possiamo dire vermini possiamo dire possiamo dire Sebastiano Mastellione possiamo dire Rupert von Hosein possiamo dire molti altri Schäuble Giorgievic e molti altri si uniscono ad altre piccole storiche perché a mio avviso ogni storia di ogni individuo uomo donna che sia veramente è forma mosaico della grande storia e quindi non dobbiamo dobbiamo assumere questa idea con un senso di responsabilità la nostra vita e verso la nostra vita nella società ultimissimo aspetto è davvero Erasmus uscì dalla Turis e Burnea degli studi non volle non volle limitare la sua influenza nella società con i suoi libri che pure erano per lui fondamentali veramente e lo affermò ripetutamente che erano i libri il veicolo delle sue idee ma non volle non volle semplicemente affidare agli alfabetizzati diciamo questa possibilità e agli alfabetizzati anche dotti volle invece diffonderla in maniera più diciamo concreta che modificasse proprio la vita si inserisse proprio nella vita stessa delle persone le sue idee idee che a mio avviso hanno tutto il valore che ha l'utopia e che ha e che l'utopia che appunto dimostrano che l'utopia si può realizzare se si vuole grazie grazie veramente Luisa Lucia e soprattutto scusate Lulu Lucia e soprattutto io direi anche proprio per avere concluso il tuo intervento con queste parole che l'utopia si può anche realizzare come dire noi abbiamo bisogno di riportare direi sicuramente anche dentro la politica un orizzonte di possibile di non l'orizzonte del possibile nel senso forte nel senso un orizzonte di possibilità di non doversi mai come dire costantemente fermare all'evidente senza avere appunto la capacità invece di pensare anche a formule innovative questa storia così antica che voi ci avete aiutato a ricostruire questo pomeriggio sicuramente ci lascia molto da pensare anche per quanto riguarda l'oggi quindi per questo io vorrei anche chiedere a tutti e tutte le persone presenti nel pubblico forse alcune alcuni di voi condividono appunto gli interessi la cultura storico-teologica dei nostri speakers di questo pomeriggio ma direi anche per quelli che hanno semplicemente delle curiosità o anche molto semplicemente dei commenti di farsi avanti e direi che sicuramente abbiamo un po' di tempo per la discussione potete o usare la funzione dove si vede la manina se no potete anche usare la chat come preferite vedo subito Guillaume Allonge prego buongiorno buonasera a tutti mi sentite bene sì no la mia domanda sostanzialmente è stato evocato il fatto della complessità dell'itinerario di Erasmo che è un itinerario religioso che difficilmente si può inquadrare dal lato cattolico dal lato protestante però ancora oggi in sede storiografica è abbastanza forte la volontà almeno da parte di alcuni di appropriarsi di Erasmo e invece Erasmo mi pare sfugga in qualche modo e in questo senso veramente senza frontiere cioè al di là anche delle frontiere confessionali lo dimostra il fatto che in qualche modo anche questa fondazione poi benché Erasmo si schieri è stato ricordato contro Lutero sul libero arbitrio però poi invece questa fondazione nasce in un contesto piuttosto protestante con Hammerbach e va a aiutare figure che sono anche oltre la riforma allora la mia domanda è un po' questa se Lucia Felici si era fatta poi un'idea di che cosa pensasse di come si pensasse Erasmo almeno alla fine della sua vita cioè dopo questo itinerario complesso l'irruzione della riforma visto che per noi che lo studiamo è un po' complicato capire sicuramente le sue filiazioni vanno in varie direzioni così come le sue prese di posizione in vita se in qualche modo nel fondare nel fondare questa questa cosa in qualche modo Erasmo si legge si legge col senno di poi in una direzione piuttosto che in un altro o a metà strada come invece credo che sia grazie 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 mille a Guillaume Alonj non mi sembra di vedere altre mani alzate al momento se qualcuno oh Tommaso Sommigli bene raccogliamo magari due domande e poi dopo anche se ce ne fossero anche un altro paio prego Tommaso Sommigli sì salve io più che una domanda in realtà avere proprio una curiosità perché è molto diciamo che non frequento l'argomento e ho avuto modo soltanto di sfogliare il libro che mi è arrivato poco fa però sfogliandolo mi è subito saltato all'occhio l'incredibile network di persone che si era costruito di grandi intelletti di personaggi centrali della storia della riforma ma anche della politica insomma dell'Europa e dell'Italia del tempo che si era creata intorno a questa fondazione quindi la domanda che mi era solta e mi scudo se poi nel libro si è già data la risposta per l'appunto però ho pensato di chiederla comunque è se intorno a questa fondazione magari si sviluppa anche un movimento intellettuale se ci sono degli esiti culturali ecco non tanto legati ovviamente alla figura di Eraldo che è un stato di esiti culturali ma proprio la fondazione in sé per sé se crea se crea scuola ecco diciamo grazie infiniti a Tommaso Somigli vediamo se ci sono altre mani non vedo interventi in chat ci sono altre mani alzate direi di no quindi io darei in questo caso la parola nel nell'ordine inverso cioè che crederei prima di esprimersi a Lucia Felici e poi invece passerei per Luisa Simonutti e poi per Lothar Foghe Lucia prego ma dunque la domanda di Dioma Longe è molto interessante nel senso come si pensava e come si pensava Erasmo lui si diciamo secondo me il suo testamento spirituale era che lui era cittadino del mondo che non apperteneva a nessuno e questo mi sembra proprio veramente significativo no emblematico della sua visione e sicuramente egli fu un personaggio che non che rifiutava le controversie sappiamo che insieme a Lutero fu veramente spinto a appunto discutere con lui del libero arbitrio contro il suo volere non lo voleva fare e recenti studi hanno messo in luce che fino in fondo aveva appunto cercato un punto di mediazione anche con Lutero stesso di cui peraltro aveva era stato un sostenitore a Dimizi quando lo pensava un riformatore interno alla chiesa la mia personale visione che gli fosse veramente fedele al messaggio dell'Evangelio la sua filosofia cristi la sua idea di religione era quella di un'identificazione completa con i fondamentali affidei cioè alcuni principi essenziali laddove tutto il resto era a diafora ora questo faceva sì che egli non potesse essere inserito in nessuna confessione e infatti la schiera degli erasmiani giustamente Luisa ha ricordato Bibliander che seguato di Zwingli a Rosmuster di Zurigo è di persone che poi non riescono ad avere una loro appunto locazione esatta cioè entrano in quella zona grigia che di persone appunto che ricercano questa universalismo quindi la sua io penso che veramente la sua la sua idea fosse quella di essere al di sopra delle confessioni al di sopra delle e si legasse a questa idea dell'appunto dell'Evangelo ma anche e lo ricordava giustamente Luisa anche un'idea di un esegesi mediante la ragione cioè il suo il suo l'esito cioè la 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 sua eredità è molto legata a questa uso della ragione nell'analisi della della Bibbia e in generale dei testi sacri e questo ne ha fatto e io sapete l'ho scritto ripetutamente ne ha fatto un una figura a cui fa un riferimento alla riforma radicale a larga mani la riforma radicale e perché egli appunto perché perché pone veramente presupposti di una concezione di una concezione spiritualista da un lato e nello stesso tempo fondata sulla sull'esegesi razionale delle scritture e questo apre la via a molte a molte possibilità egli nel momento in cui è nel lagone si difende dicendo grammaticus sum no? sono un grammatico non mi coinvolgete in tutte queste conflitti confessionali perché io ne voglio stare al di fuori semplicemente applico la ragione e l'esegesi critica alla scrittura però io penso che appunto la sua visione fondamentalmente fosse quella che ho appunto descritto in questo momento il egli disse male un bel libro uscito recentemente si intitola l'inferno di Erasmo l'inferno di Erasmo perché egli si rendeva perfettamente conto che il suo messaggio era fuori fuori della situazione coeva non era non era appunto comprensibile e io non l'ho scritto però l'ho anche pensato che forse anche l'idea di destinare tutti i suoi soldi a questa fondazione fosse un modo per lasciare un'eredità diciamo di idee che andasse oltre appunto tutte queste divisioni confessionali che lo faceva soffrire immensamente perché veramente distrutta l'unità dell'umanità appunto cristiana quindi non era una questione tanto dottrinale quanto proprio una questione di divisioni che laceravano e l'unità di Cristo e dunque se gli fa una scuola cioè non so se ho compreso bene la domanda forse Luisa ha già risposto in parte ma può rispondere vi sono fra i beneficiari vi sono persone che seguono le sue idee ma anche altre che non le seguono questa è la cosa molto interessante no perché i borsisti avevano come unico vincolo quello di difendere il nome e la fama di Erasmo era l'unica condizione che gli veniva imposta però alcuni non lo fecero semplicemente fecero altro e questa secondo me è anche un elemento significativo nel senso che uno insegna ma non è detto che i suoi insegnamenti vadano nella direzione da lui pensata vorrei dirvi soltanto questo che l'alternative für Deutschland cioè il movimento di estrema destra che l'Otra conosce bene ha una fondazione Erasmo e ha assunto Erasmo come suo nome proprio per l'individualismo e la libertà è per questo che sto pensando di fare un'edizione per la Germania per dimostrare che Erasmo è anche altro però ecco questo per dire dell'utilizzo vario che può essere fatto di un pensatore di questo tipo non so se ho risposto alle domande grazie Lucia come dire chiudi su una come dire su una prospettiva molto preoccupante perché effettivamente diciamo questa appropriazione di Erasmo da parte di un gruppo politico che sicuramente è ben lontano dai suoi valori di tolleranza e di apertura come dire è effettivamente qualche cosa di molto che ci fa pensare al tempo stesso ci fa pensare proprio sul valore profondo di questa figura che comunque come dire in ogni caso è di grande attrattiva e significa che come dire il suo profilo è talmente alto da appunto da farne desiderare come dire l'arruolamento anche da parte di chi da lui è molto lontano ora io vedo c'è scritto solo Michele un'altra mano vediamo se ci fosse un'altra domanda ricordiamoci anche non solo a Lucia ma anche per Simonotti e Vogel c'è nessun altro allora io direi a questo punto io sentirei la domanda di Michele il cui cognome non si vede però quindi è solo Michele Michele Bosco Michele Bosco benissimo allora sentirei la domanda di Bosco dopodiché certo se Lucia vuole dare qualche conclusione ma poi vorrei anche magari sentire per un momento velocemente Fogel e Simonotti se avessero ancora diciamo un ultimo commento proprio al fulmico tono brevissimo prego Michele Bosco grazie allora intanto sarò rapidissimo perché più che una domanda è veramente una curiosità che deriva dal fatto che ancora purtroppo non ho avuto modo di leggere il libro intanto voglio comunque ringraziare la professoressa perché mi sembra ovviamente di grandissima importanza e purtroppo come sono già ricordato di grandissima attualità anche questa cosa senza prendere e tra l'altro mi sembra anche un'idea appunto da mettere ancora più in valore perché e sono proprio decenni come è stato già ricordato in cui proprio l'Europa si stava chiudendo a livello confessionale di confessionalizzazione e di nazionalizzazione diciamo in CPM questa domanda è un po' rivolta a tutti quando diciamo è una cosa veramente una curiosità vorrei capire quando si concluse diciamo l'eredità che è stata ricca comunque l'eredità diciamo lasciata da Erasmo come fu finanziata questa fondazione perché e credo che non so se si mantenne poi con delle donazioni per esempio di alcuni di altri filantropi che sono che hanno raccolto non so o se c'erano dei soci che si sono poi e poi cioè come era sicuramente era previsto dai statuti che vennero sicuramente appunto provate dal Consiglio in Basilea però appunto non è veramente una curiosità e poi se c'erano era prevista qualche forma di controllo diciamo su come poi venivano spesi i soldi diciamo ai beneficiari di questi di queste grazie e non è difficile dunque non hai letto il libro quindi le sirve venivano i soldi vennero investiti nel Ducato di Württemberg non c'erano altre donazioni perché anzi molti articoli del lo statuto sono dedicati a indicare dei limiti proprio molto platonetti per evitare che fosse distolta dai fini che si era prefissati quindi Unifasio Hammerbach investe nel Ducato del Württemberg e questo gli dà una rendita una rendita annuale e con questo vanno avanti ora io non ho studiato la fondazione dal 1600 in poi che dura fino alla metà del XIX secolo quindi non so dopo le modalità con cui penso che venisse finanziata dall'università successivamente però fino a che gli Hammerbach furono appunto gli amministratori fu investito in Ducato del Württemberg e poi dunque la domanda era scusa Michele non merito se c'era se era prevista qualche forma appunto di controllo di controllo scusa non l'avevo scritto è una cosa molto cattolica devo dire questa molto cattolica no non veniva non veniva fatta un non veniva appunto effettuata nessuna forma di controllo è al punto che ogni tanto veniva fregata ti ho detto proprio sinceramente nel senso che soprattutto nei prestiti c'è un famoso Floriano il quale va da ogni riformatore si fa dare dei fondi dicendo che vuole che vuole realizzare questa questa opera sulla riforma fondamentale e poi è veramente un impostore però non c'era nessuna forma di controllo no neanche sulla moralità neanche sulla moralità delle donne grazie mille grazie grazie mille bene quindi vediamo che insomma certe cose capitano a tutti via se sono capitate anche la fondazione di Erasmo grazie infinite volevo sentire magari se fosse Luisa Simonutti aveva ancora un commento un pensiero da offrire va molto molto rapidamente sulle domande perché appunto ha molto ben risposto Lucia su come si pensava Erasmo secondo me lui si pensava come un irenista veramente e su questo cioè quello che su pochi punti vuole riunire un po' tutta la cristianità e sul creare scuola volevo solo su questo dire in realtà la scuola diciamo io ho letto come ho letto poi non so se sbaglio la fondazione era veramente per aiutare le persone le persone piccole persone diciamo no non le persone importanti ma le persone bisognose le persone appunto donne e tutto e uomini e poveri quindi per i poveri ecco quindi non era forse pensata proprio per fare una scuola ma lui ha fatto di fatto una grande scuola vi cito solo John Locke che non vi avevo finora citato ma nella sua biblioteca nella sua stavo preoccupando Luisa ecco appunto che cosa aveva i colloppia familiari aveva gli adagia aveva ovviamente i testi di diatribe con Lutero sulla è chiaro è chiaro siamo alla fine del seicento è chiara la scuola e questa teologica politica che va appunto si è detto prima Spinota ma attraverso il pensiero di questi personaggi appunto che pensano alla tolleranza ora non tanto da un punto di vista strettamente religioso ma di costruzione sociopolitica questa è la scuola una delle grandi scuole ecco assieme a quella ermeneutica che si diceva e per me io diciamo trovo veramente mi è piaciuto molto lo ribadisco proprio voglio leggere queste piccole storie personali perché sono è stato l'ascensore sociale del cinquecento Erasmo quello che noi non abbiamo più oggi grazie mille è vero molto interessante grazie grazie mille Luisa Simonotti Lothar Vogel allora molto brevemente cioè ho pochi in fondo non ho nulla da aggiungere volevo solo dire come si pensava Erasmo credo che dobbiamo mettere insieme semplicemente diversi elementi anche da un lato lui era convinto che il papato fosse un garante di universalità cioè questo l'ha affermato ripetutamente dunque il papato era per lui un valore e questo ovviamente lo distingueva dai protestanti dall'altro lato andava cioè ha passato gli ultimi anni della sua vita per diversi motivi non a Friburgo ma a Basilea dove era in atto una riforma a volte cioè anche un po' strana anche un po' particolare ma comunque una riforma dunque si sottrae alle nostre ricerche di risposta e forse proprio questo è anche bello per quanto riguarda sì gli effetti solo per dire dunque una cosa che mi colpisce Erasmo rientra anche in tutto un ambito in cui si cerca di migliorare le condizioni di vita e questo inizia già prima di Lutero nel 400 cioè la mendicità deve essere combattuta da un lato tutto questo è un elemento disciplinare cioè un elemento di disordine e dall'altro lato però c'è sempre anche quella idea che questa gente deve essere messa in grado di vivere meglio cioè tra il disciplinare anche il punire e il voler migliorare comunque si cerca di fare qualcosa e in questo senso diciamo abbiamo qui un progetto molto positivo appunto mirato sull'educazione sullo sviluppo delle persone che cerca di rispondere alle esigenze del tempo anche alla mobilità delle persone e anche questo è bellissimo secondo me grazie grazie a Lothar Fogel e ancora una volta grazie a a Luisa Simonutti ancora una volta al professor Fogel soprattutto a Lucia Felici per averci regalato questo studio e appunto le ultime considerazioni gli ultimi pensieri che sono stati condivisi qui questa sera sono stati su come si pensasse Erasmo e penso che sicuramente queste questo tempo che abbiamo trascorso insieme possa aiutare anche a rispondere a questa domanda come possiamo pensarci noi come pensiamo come possiamo noi oggi pensarci come abitanti dell'Europa e personalmente ho imparato una cosa nuova sicuramente come dire il dibattito di oggi pomeriggio mi ha restituito l'immagine di Erasmo uomo di pace sicuramente irenista come è stato detto mi è stato confermata l'immagine di Erasmo come incarnazione appunto di uno spirito anche cosmopolita della capacità di muoversi di spostarsi appunto una prospettiva che va al di là delle barriere e dei confini delle nazioni però ecco devo dire una cosa che mi ha particolarmente colpito che per me nella mia ignoranza era nuova è invece questo aspetto fondamentale fortissimo della solidarietà di Erasmo quindi appunto questa attenzione anche a come dire ai temi della sofferenza ai temi della giustizia ai temi della povertà diceva Luigia Simonutti la necessità di fornire anche un ascensore sociale questo punto questa attenzione ai più fragili l'attenzione ai meno fortunati e sicuramente credo che appunto oggi abbiamo saputo qualcosa di più di come Erasmo si pensava di come Erasmo ha voluto pensare al futuro di come Erasmo ha pensato in un certo senso la propria eredità dopo la fine della sua vita terrena torno a dire questo ci aiuta oggi a pensarci come abitanti dell'Europa e sicuramente ci aiuta anche a riscoprire i valori che stanno dietro al processo di integrazione europea che purtroppo non sempre ce lo ricordiamo dovrebbe dar luogo a ben più di una fortezza con dentro un mercato perché appunto invece tutta l'idea fondante dell'Unione Europea sarebbe di avere uno spazio politico fondato su diritti condivisi quindi direi che oggi pomeriggio chi di noi appunto non partecipa della stessa dottrina storico-teologica ha avuto una direi bella bellissima occasione di formazione di questo ringrazio i nostri magnifici tre ma penso che insomma per tutti e per tutte noi comunque al di là appunto di aver fatto un passo avanti nella conoscenza storico-teologica resta comunque qualcosa a cui pensare e speriamo anche qualcosa per poter poi orientare non solo il nostro pensiero ma anche le nostre prassi ringrazio tutti e tutte di essere stati con noi oggi pomeriggio prima di concludere un break pubblicitario perché invece la pastora Letizia Tomassone si prepara a bordo campo a mostrarci l'argomento del prossimo dibattito del Vermigli che avrà luogo il venerdì 19 novembre pastora Tomassone per gentilezza qualche parola si tratta di presentare un numero della rivista protestantesimo intitolato Lezioni dall'Africa lezioni ovviamente per noi che stiamo in Europa nella teologia la rivista è una rivista teologica e saremo diverse persone tutti gli autori e le autrici di questo volume anche il professor Fogel che ha scritto un bel articolo proprio sull'inizio della teologia africana e come è arrivata e diventata importante anche per l'Europa come interlocutore e questo sarà il nostro argomento della volta prossima grazie infinite pastora Tomassone come vedete ci sposteremo da Basilea fino all'Africa dal 500 ai giorni nostri ma è in un certo senso nel carattere anche come dire nell'identità nella missione del centro culturale per i martiri vermigli di cercare il più possibile appunto di ritrovare e ripercorrere i percorsi della eredità culturale del protestantesimo internazionale e renderli in qualche maniera fruibili a un pubblico appunto di persone non necessariamente specialistiche ma sicuramente appassionate ancora una volta ringrazio tutti e tutte ma soprattutto ringrazio Lothar Vogel Luisa Simonotti e Lucia Felici per aver voluto essere con noi e averci regalato questo bellissimo pomeriggio in memoria di Erasmo che resta comunque sempre molto vicino al nostro cuore grazie buonasera e ci vediamo grazie buona serata arrivederci arrivederci grazie ciao